E proseguendo nella serie delle dee, poteva mancare la dea per eccellenza della Sardegna, la dea madre, signora delle selve, delle belve, della natura, dei torrenti, della vita stessa in sostanza, dell'agricoltura, antichissima dea, i cui manufatti, vedete, statuine, vedete spessissimo, trovate spessissimo quando parlate e quando leggete di archeologia sarda. In questo caso la dea madre l'ho vista proteggere le ragazze, le donne dell'Iran che sciolgono i loro capelli. Allora, questo è un quadro altamente simbolico, perché nel mio quadro io parlo di me stessa, ma parlo anche dei temi che mi stanno a cuore. Ciò che succede in Iran mi colpisce profondamente e il fatto che delle donne non possano sciogliere i loro capelli, non possano farli vedere a rischio della propria vita, è una cosa che di questi tempi veramente mi dà orrore, ecco. Ma io in questo caso ho voluto invece rappresentare la speranza, la protezione della dea nei confronti di queste donne. Infatti i capelli, come vedete, si sciolgono, sciolgono, diventano quasi dei fiori che si uniscono i fiori, che idealmente rappresentano i capelli che non esistono della dea, non esistono nel modo in cui viene rappresentata nell'archeologia, ma io immagino con dei capelli che sono dei fiori. La dea tiene le sue mani da una parte una ciocca, i capelli dall'altra un velo e protegge queste donne. Come dire, la Sardegna è dalla vostra parte, il mondo è dalla vostra parte, gli dei, quindi la sorte, la fortuna, il bene è dalla vostra parte, io sono dalla vostra parte. Chiaramente tutto questo al grido di Women, Life, Freedom, che significa donne, vita, libertà, è del titolo del quadro, ma è anche ciò che urlano le donne quando si ribellano a questa dittatura che le costringe, le schiacce, e vuole schiacciarle, non riesce a schiacciarle, ma vuole schiacciare le donne in Iran. Grazie a tutti.